ciao a tutti ragazzi e ben ritornati ancora ai navi reak show ragazzi ieri sera vero dopo che ha insultato unicatil dopo che ha insultato noisy si è preso la briga di insultare addirittura mc crash ragazzi una delle leggende della musica rap albanese quindi oggi ho pensato di fare un confronto tra lui ed mc crash così vediamo un po la differenza tra i due rapper se lo sta insultando per fama o non lo so partiamo subito ragazzi il primo cantante è ferro quindi partiamo subito partiamo ragazzi la canzone facciamo fa faccio fama sono famoso una cosa del genere ho fatto fama ho fatto fama ho fatto fama che doveva sa faccio ok hai sei video di me ma mai mi potrai fermare ragazzi e questa è la questione di ferro e questa è la questione di ferro che è un ragazzo anche talentuoso un po' non lo so il ballotelli del calcio ragazzo talentuoso però ragazzi fa tante di quelle cavolate che veramente sono incredibili incredibili guardate la stessa frase di Sam nessuno mi può prendere nessuno mi può portare via quello che Dio mi ha dato anche Sam usa molto questa frase qua tu non eri con me quando avevo bisogno non so con chi ce l'ha qua tu non eri con me quando avevo bisogno adesso che sono famoso mi viene mi corri dietro non so con chi ce l'ha qua io non ho dimenticato tutte le persone che mi hanno aiutato durante questo periodo ho lavorato così duro per rendere orgogliosi i miei genitori ha detto ragazzi è questo che è questo il rap che a me piace questo è il rap che a me piace quando si entra un po' sul personale quando si fa real talk quando si parla della vita ok di problemi della vita dei propri personali questo è veramente un buon rap ragazzi ok tutti lo sapete che io mi sono alzato da solo ok 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 E' un po' Ragazzi questa canzone Penso che sia la sua canzone più bella Che io ho mai fatto una reazione Questa credo sia la canzone più bella Che io ho mai fatto una reazione Rap che è sua Non è male Sì Sei iridioso di me però mai mi potrai fermare dice Ferro Ma è però Ok Ok Molto rispetto per quelli che sono cresciuti in strada ragazzi ma perché perché si sta perdendo in questa cosa perché a me dispiace a me dispiace veramente perché è un rapper ottimo è un rapper veramente talentuoso mi piace però ragazzi perché si perde in queste cose come si fa ad andare ad insultare unicati come si fa con 10 canzoni la sua carriera come si fa ok ok è questo è ragazzi io di questo parlo di questo parlo penso che sia una delle canzoni migliori questa qua perché parla parla di re fare poche non come le altre fare qua è veramente bravo non ti confrontare non andare contro e si cresce non andare contro noi se non andare contro unicati non si può non si è vietato è vietato ad andare contro loro ragazzi è vietato perché hanno più carriera hanno più carriera di quanti anni e ferro quindi è vietato ragazzi è vietato siete bravi ma solo a comprare view su internet su youtube guarda che costoso non è che devi avere i soldi per comprare perché certi cantanti come noi hanno 50 milioni di visualizzazioni e costano comprare 50 milioni di visualizzazioni non è che costa poco ok ragazzi questa è la sua canzone migliore fino adesso secondo me questa è la sua canzone migliore perché è veramente bella carina lui fa un po' di re parla un po' della sua vita ed è questa è la cosa che mi piace tantissimo che dire ragazzi a me dispiace lo ripeto lo ripeterò sempre il fatto che lui come si è preso ieri si è alzato ed ha insultato MC Crescia l'urical song gente che ha fatto la storia della musica albanese bisogna tutti che riportino il rispetto perché sono veramente al top quindi per questo mi dispiace tantissimo insulti a unicatil che devono fare un monumento a unicatil in Kosovo per quello che fa per quello che scrive quindi è veramente per questo mi dispiace però questo ragazzo è talentuoso questo non si discute andiamo subito allora ad ascoltare MC Crescia andiamo ragazzi eccoci qua ragazzi con MC Crescia ragazzi uno dei padri fondatori della musica rap albanese una delle leggende più grandi della musica albanese è stato insultato ieri da ferro ok quindi sono qua ragazzi gli diamo un'occhiata a questa canzone che mi avete suggerito e vediamo un po' cosa da dire MC Crescia partiamo subito ragazzi aspetta 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 cos'è ok 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 ragazzi ok voglio fare più soldi possibili per andare a Miami dice che cosa da Parigi da Parigi Buongiorno Instagram dice tutti si stanno divertendo perché i sentimenti veri non si possono dimostrare MC cresce ragazzi MC cresce C'è un bel tipo di yoga 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 A me pensano a me e mamma Quando mettono su la masca La masca, wow Poi il vocale Il vocale di MC Crescia Vogliamo parlare del vocale di MC Crescia Quando fa rap ragazzi Lasciamo stare I ragazzi del mio quartiere Quando fanno i soldi il mio cuore Esplode di gioia E' una legenda in questo mondo Come se avessi vissuto in Harlem Una cosa del genere Ok Musica Il potere per le parole Attraversa quello dell'immaginata Come si fa a risultare a MC Crescia Come si fa a risultare a MC Crescia Come si fa a risultare a MC Crescia Come ti vieni in mente Non dimentichiamo lui ricalzò, perché sto dicendo che si cresce, però intendo anche lui ricalzò. Come si fa? I ragazzi del quartiere hanno fame ma non hanno da mangiare. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ok, ok. Non hanno uscito neanche per mangiare la sera, dice. Ok, andiamo. MC Crescia è una leggenda. MC Crescia è una leggenda in questo mondo. Ok, ok. E i miei amici dicono che fanno tutti per una Maserati perché vogliono tutti realizzare il loro sogno. Ok? Sono... Ok, ok. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Oh mio Dio. I soldi non servono a nulla quando un fiore... Aspetta, cosa dici? I soldi non servono a nulla? Quando un fiore muore... I soldi non servono a nulla quando un fiore muore... I soldi non servono a nulla se vuole... 아 ** oh mio Dio ragazzi che canzone... che canzone, che poesianya ragazzi. Che poesianya rдиución. Che poesier, qui abbiamo livelli di poesiag! Abbiamo neanche un video, un video con le lirizzazioni, ragazzi Con il testo Kevin, ragazzi, che differenza abissale c'è Che differenza abissale c'è, veramente No, c'è una differenza abissale, ragazzi È l'unico modo ad andare proprio a ascoltare queste canzoni Una dopo l'altra Confrontarle, ragazzi, c'è una differenza abissale Pazzesca, ragazzi, pazzesca Da un altro siamo Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o quello che vi piace Dall'altro siamo Bernardeschi, ragazzi Veramente sono due livelli Troppo differenti Sono due livelli troppo differenti Troppo, troppo differenti, ragazzi Non si discute, sono veramente molto differenti Le parole di Yuri Kalson sono Ragazzi, ragazzi, ragazzi Questa era la mia reaction a Ferro contro Deve iniziare a paragonarsi Non lo so Con altre persone della sua categoria Deve smetterla veramente di insultare Unica team Noisy MC Crescia Perché più lo fa Più lo fa E peggio è Perché alla fine Nessuno sta capendo Il vero motivo Qual è il vero motivo? Perché tu dovresti insultare Queste leggende della musica Non c'è un motivo dietro È solo la fama È solo a ricevere un po' di attenzione Ragazzi, ma questo fa solo del male a lui E a me dispiace Perché è un cantante che a me piace Secondo me è veramente un rapper valido Sa scrivere È veramente valido Quindi mi dispiace per questo Questa è la mia reaction, ragazzi Lasciate voi nei commenti cosa ne pensate E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Vi saluto dall'Italia Ciao Ciao